Questo qua sono qui per parlarvi appunto del team che ho creato, il team su Fortnite, si chiama Infinity Gamer, per ora siamo soltanto in due, io appunto sono il capo o il presidente, come volete chiamarlo voi, di questo team, mi chiamo Infinity Trattino Basso Alfrex, e poi ho fatto entrare quello che adesso è il vicepresidente, Infinity Trattino Francis, che è quello che su Brostarts è Batboy, io comincerò con il farlo salutare e poi spiegarvi insieme, ok, allora, quello che volevo spiegare era che praticamente questo team qua, allora per entrare nel team, prima cosa dovete scrivere nei commenti, come vi chiamate e inviarmi la richiesta di amicizia a me, mi chiamo Infinity Trattino Basso Alfrex, con la I di Infinity Maiuscola e con la A di Alfrex Maiuscola, questa qua è il mio secondo account, è da telefono, quindi accanto dalla switch non riesca a registrare, e allora, Francesco ti dico solo che il Ballos c'è un sacco di rumore, e allora, appunto, quello che vi volevo dire era questo, quindi dovete scrivere nei commenti come vi chiamate, inviarmi la richiesta di amicizia, e poi fare un provino dove avete, diciamo che siete d'accordo con due tentativi e 6 kill, giusto Francesco? Dovete fare in una di queste due partite che avete 6 kill, se la farete in una, noi vi diciamo che crederemo un po' più forte, se la farete in due, un po' meno, comunque noi calcoleremo anche voi che l'evoluzione del passo, ovviamente se sarà uscita la season 3, che uscirà il 17 giugno, è ovvio che sarete a uno dei primi livelli, se sarà uscita da poco quella season, e quello è scontato, e quindi volevamo dire questo, se siete riusciti ad entrare nel team, dovete, intanto, cambiare il nome con Infinity, e poi il pezzo che avete voi, che ti voglio, Infinity-Alfrax, o lui, Infinity-Francis, quindi Infinity, ditemi se vi serve un video tutorial, dove vi spiego come fare a cambiare il nome, dovete poter cambiare una volta ogni 14 giorni, quindi ogni due settimane, e poi dovete inviare le richieste d'amicizia anche a Infinity-Francis, allora, o tra un più avanti, poi vi aggiornerò anche su quanti siamo, e spero che ognuno di voi abbia l'amicizia di ogni membro del team, potremmo anche giocare insieme in creativa, ci mettiamo, che ne so, anche una volta ogni due settimane, giochiamo in creativa insieme, per esempio, o una volta ogni settimana, vediamo come riusciamo, perché poi anche a settembre comincerà la scuola, ora ci saranno le vacanze, quindi, infatti, io nelle vacanze giocherò pochissimo, per dire quasi niente, poi dopo potremmo anche giocare nella lobby reale insieme, a turni, o in creativa, e poi se diventeremo un team forte, ci chiameranno a fare, appunto, delle sfide, dei tornei tra team, sceglierò due titolari da mettere, in caso due sostituti, e se uno di noi due non potrà partecipare, metterò un altro di voi dentro. E vabbè, spero che entriate in molti nel team, e, a breve, chiedo che domani caricherò il video dove metterò la mia outro che ho creato, spero che vi piaccia, che fatemelo sapere, e vabbè, spero che in molti entrate nel team, fatemi sapere nei commenti, e vabbè, spero anche di incontrarvi nella live che è buono spostato il 17 giugno, perché, appunto, come ho detto nel video che ho fatto, appunto, il primo video dove mi avete visto su Fortnite, appunto, mi chiamo, cioè, una persona al 17, perché hanno spostato la season al 17. Colpa della Epic? No, è più che altro per il brutto fatto che è successo in America, che hanno fatto a quel nero, a quella persona di colore, perché, appunto, sono razzisti, e vabbè, e vabbè.